Stanno in 22, stanno in 22 qua, stanno Ma dove? Vieni al centro E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Metscraft Siamo oggi in compagnie di Charlottina Ciao Charlie cosa stai facendo dietro di me? Charlie Niente giuro, giuro Spero che sia una carota quella lì Perfettamente una carota, lo giuro Perfetto, ok Comunque oggi andremo a fare dei Super Mario Games Cosa ho detto? I Super Mario Games Oggi andremo a fare dei Super Mario Games in commenti Charlie visto che ce l'avete chiesti in tantissimi di fare un nuovo video insieme a Charlie Quindi eccola qui Charlie per favore Scusa, scusa Non ha molto senso Rimetto a posto la carota Ecco bravo, rimetto a posto la carota Comunque Iniziamo subito Allora Noi avevamo provato a fare il party Il problema è che Non sono tardi Non ci riesco infatti Non lo so Comunque Comunque allora Clicca subito sulla bussola Survival Games Due Trattino Due M Due Cuoricino Ho fatto anche uno screenshot Non so come Ah Fullato Bellino Allora scegliamo una mappa Che mappa vuoi fare Charlie? Ah eccolo Voglio fare Forest Forest Anche io volevo fare forest Io ho fatto forest Guarda mi compra anche il golden apple Se non vinco adesso Scusate Ho shoppato troppo E Furtroppo Quando mi faccio i coin Dove puro spendere Io mi sono presa la cosa in ferro Ora ammazzo tutti Oddio Mi sono rubato un ender pearl Perfetto Ammazzo tutti Ammazzo Dove sei? È me Non lo so Non ti vedo Eccoti qua Perfetto No ti ho colpito Non ci possiamo colpire ancora Andiamo Andiamo Sembrava di averti colpito Ok Andiamo verso di qua Andiamo verso di qua Aia aia Dove sei? Qua accanto a te Dietro di te Ah non ti vedevo Ciao salve Ciao Ok abbiamo un secondo E ci possono picchiare malamente Aspetta e chiudiamo questo Bene Aspetta 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 Ciao Bam Ho sciottato già uno Ok a posto No questo qui non ha niente Mi dispiace uccidere Kill la kill la Deve essere malvagia e cattiva Mi sento così in colpa No 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 Tu devi killare tutti Ok Ma questa mappa non l'ho mai fatta Cioè che cacchi di mappa è Allora andiamo un po' A trovare le ceste Hai detto Anch'io voglio Citazione tua Anch'io voglio fare forest E poi Ma questa loppa qual è? Eh appunto perché non la conosco Ho detto facciamo forest Perché non l'ho mai fatta Ma tu hai cibo? Io ho una mela Tieni Una mela Io ho un biscotto Per mangiare Poi ho tre golden apple Oh ma c'è uno Ma è full ferro quello? Ma come è possibile? Non lo so No è impossibile No lo vado a killare Guardalo Aspetta Killiamolo male No ho preso te Ok l'hai killato Madonna per un attimo Ho pensato che ti avevo killato io Perfetto No ti avrei ammazzato Dall'aldilà Cioè diventa Io ho due diamanti Ma non lo so Ah si? Si Ma non troppa il Contenuto tipo Delle persone L'inventario Eh si dovrebbe Sì di quello che non c'aveva nulla Guarda Voglio dare una bella cosa Cosa? Lo sai anch'io c'ho Io c'ho un diamantino Uno stick lo sai? Guarda Oddio Anche Uh tre diamanti Wow ok basta Bene possiamo andare Allora Per caso è la bussola Non ho molta armatura Si Vuoi un arco? Poi c'è un altro diamante Tieni un arco Tieni un arco Vuoi anche delle frecce? Tieni le frecce Eh si le frecce non ce le ho Ok Vuoi shoppare qualcos'altro Per caso No non si può shoppare Durante il gioco Vedi Si 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 No questo qui lo shoppa Di prima del gioco Comunque a me Mi targetta te Perché siamo quelli più vicini Allora Allora vediamo un pochettino Cosa riusciamo a fare Uh ho trovato delle TNT Per me ce n'è uno qua vicino Ok Adesso faccio le combo Con le due spadine Tanto odore di Combo Come combo Eh si ho due spade Faccio Do il primo colpo Con quella Con fuor Esatto Con fire aspect Anch'io quella Ha messo un premio Sul giocatore Emerald 96 Aia Aiuto Mi ha ucciso No Come Ma da te è comparso Ma come Questa qui Guarda Aia Ma come ha fatto In due colpi Mi ha ammazzato Eh siete che non c'è Un armatore Quindi ci ha killato subito Che stronzo Ok Non ci posso prendere niente Va bene Aspetta Ok mi sono preso 5 di pane Si Ora ho 5 coin Dai 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 Grande Ora si che puoi spaccare tutto Eh non sono uscito Ho tutto Ho tutto Ho tutto Emerald Ok Andiamo 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 via Ho il mondo Corri corri Ok adesso è il tempo che abbiamo la speed Corriamo via Proprio dobbiamo seminare a tutti Uh anch'io ho un'armatura E tanta bella roba Ok Io ho il mondo E me Mi segui? Mi vedi? Sì No No Oh cacchio Ritorna al centro Ritorna al centro Che non c'è nessuno al centro Mi sa Tu ci sei? No c'è un tipo che ammazza Aspetta aspetta Tu che cacchio vuoi? Muori Ok ho ucciso uno Sono al centro E c'è un FK Aia 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 No 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 Stanno in 22 Stanno in 22 qua stanno Ma dove? Vieni al centro Eh non posso Non c'è uno che mi blocca la strada Aspetta aspetta Ma sei verso il centro Giusto? No sono morta Sono morta No sono morta Perché stavano tante persone Adosso a me Mi targettano Madonna Basta Vendetta Vendetta Stavano in 15 contro di me Sì vabbè Guarda Già di due con le spade Vabbè Ok dai proviamo l'ultima volta E vediamo un po' Che mappe uscite Ah ma quella di prima Ok Vediamo Allora Adesso piglio kit Kit a pagamento Quanto costano? Ok Lasciamo stare Kit vip Ma qui ce li ho Ma io prendo sempre l'archere Compro qui Un fottì di golden apple TNT Tante frecce Una spada Del pa Basta Ho shoppato come uno schifo Tanto perdo sempre Sono scarso Però lo spariamo sempre accanto Io e te Vai 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 Sì infatti Secondo me perché Entriamo per primi Non ho preso nulla Vieni qua dietro Vieni qua dietro Io poco Vieni qui di qui di qui Guarda No vieni di qua Vieni a sinistra Cioè faccio un giudato qua sopra Aspetta c'è la chest qui Eh io mi ricordo pure Qua sopra ci sono le chest Infatti qui c'è un altro Madonna ho 9 mele d'oro Ops Ho forse esagerato Forse un pochino Ma giusto un po' Vuoi un po' di mele d'oro? Allora ho un arco con power 2 Ho 5 mele d'oro Io sto salendo sopra 6 mele d'oro Io sto provando a salire qua sopra Anch'io anch'io Per chi mi ricorda che qua sopra Ci sono le altre ceste Eccoli qui La partita finirà in 19 minuti Ui cosa ho trovato? Elmetto Corpetto Però secondo me qui in queste ceste ci sarà qualcosa Oddio sto per cadere nella lava Aspetta aspetta Ma basta Andiamo all'attacco Andiamo all'attacco Basta Ho perso più cuori cadendo Che combattendo contro uno Oh ma qua sotto cosa c'è? Oh Uh gli apprugionamenti Cosa? Apprugionamenti? Sì noi abbiamo qui gli apprugionamenti Guarda che belli Vieni qui Cosa sono? Guarda Piazziamo questo qui Ok allontanati Ah tipo COD Aspetta un attimo Poi dovrò arrivare Mi devo allontanare? Eccoli Apri la ceste Cosa c'è dentro? Che figata Un acciarino Vaffanculo Non serve a nulla Grandi Gli apprugionamenti È come quando tu tipo Prendi gli apprugionamenti Gli tiri per terra E ti dà le munizioni Cioè non servono a nulla Grazie dell'acciarino comunque Esatto Ah ma aspetta E c'è la bussola Farò una cotoletta Allora Vediamo un po' di nuovo Cosa riusciamo a trovare Ma qui non c'è Nessun nemico Sei rimasti in 13 Allora ci sono ancora 13 spettatori 13 giocatori Quindi dovrebbe esserci persone Da qualche parte Qui vicino Eh sì Per forza Ok la mappa è grande Infatti già due sono morti Così Rimasti in 11 Oh sotto un torino Non trovavo nessuno Ma 10 Dove stanno morendo Tutti quanti Che non li trovo io Muoiono da soli Adesso dico Raga Tutti al centro Ok Vediamo un pochettino Adesso che succede Fra 16 minuti Finisce la partita Sì Fra 16 minuti Infatti c'è Deathmatch Generale Però Noi se riusciamo a trovare Qualcuno Adesso al centro Proprio facciamo così Rompiamo le regole Del survival games Del survival games Facciamo il yakab Esatto Subito tutti al centro Ad ammazzarci Io sono al centro Anche io sono proprio qui Dove si spawna Ok Ok Eccoti qui Il problema è Ed è ferro Perché se è ferro Potevo darti 4 lingotti di ferro Se te ne avviate Potevi farti anche un corpetto No Non ho trovato I don't trovato ferro I don't trovato Elotto Ok Allora adesso mi metto qui In un'entrata Vediamo un pochettino Se arriva qualcuno E non arriva nessuno Oh ma questo è Ci sono rimasti 9 Tutti al centro Ma questo è pure vero O sono tutti invisibili? No no Impossibili siano gli invisibili No 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 Fidati Sono tutti invisibili Oh Eccoli Oh oh Arriva 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 Ho sotto Ho sotto Nella del perl Ahia Dietro dietro Ma No Chi ha pettato Ma che cosa sono quei Si sono Malatissimi Grande Charlie Vai Charlottina Ce la puoi fare No Ma cos'è questo schifo Che cammina per terra Vai picchia 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 Attento anche dietro Charlie No merda 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 No 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 Charlie No Perché stava quello che mi frecciava dietro E poi si Ti hanno chiuso Uffa Peccato Peccato Però sono arrivato a deathmatch Quindi sono contenta lo stesso Sei più forte di me Dai Vabbè ma te ti hanno preso la sprovvista Ah ma si va da dietro Sempre da dietro Infame per te Solo il salame Ok Quindi ragazzi Questo video finisce qui Come avete visto Anche se shop Sono scarsissimo Quindi non vi lamentate Come sto dicendo Eh ma shoppish Come fai quello Fai l'altro Tanto sono scarso ragazzi Come vedete Perdo Perché voi siete più forti Anche se non shoppate E' anche scarso naturalmente Charlottina Però è un pochettino più forte di me Dai si può ammette Perché comunque L'arrivo dal deathmatch Ecco Quindi ragazzi Mi mi dà passare al suo canale Che è sotto in descrizione Vi ricordo di lasciare un like in su Se questo video è piaciuto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao